Si direbbe che ci sia stata molta negligenza nelle misure prese per la difesa della nostra patria. Noi finora non ce ne siamo preoccupati granché e abbiamo badato al nostro lavoro, ma gli avvenimenti degli ultimi tempi sono tali da impensierirci. Io ho una bottega di calzolaio sulla piazza davanti al palazzo imperiale. Appena apro il mio negozio sul far del giorno vedo che tutti gli sbocchi delle vie che conducono alla piazza sono già occupati da gente in armi. Non si tratta però dei nostri soldati, ma evidentemente di nomadi scesi dal nord. Non riesco a capacitarmi come siano potuti avanzare fino alla capitale, che è tanto lontana dalla frontiera. Sta di fatto che sono qui e che ogni mattina il loro numero aumenta. Conformemente ai loro gusti si accampano a cielo aperto, poiché abborrono le case. Passano il tempo ad affilare le spade, ad agguzzare le frecce, a fare esercizi a cavallo. Questa piazza tranquilla, sempre tenuta pulita fino allo scrupolo, l'hanno ridotta una vera stalla. Noi tentiamo sì qualche volta di uscire dalle nostre botteghe per sgomberare almeno il sudiciume più indecente, ma i nostri tentativi via via si diradano, già che si dimostrano inutili. E per di più ci espongono al rischio di finire sotto le zampe dei cavalli imbizzarriti o di essere feriti dalle frustate. Parlare coi nomadi è impossibile. Essi non conoscono la nostra lingua e si può a malapena dire che ne abbiano una propria. Tra loro si intendono alla maniera delle cornacchie. Di continuo si ode questo gracchiare di cornacchie. Al nostro modo di vita, alle nostre istituzioni, guardano con altrettanta ottusità quanta indifferenza. Conseguentemente si mostrano restii anche ad ogni forma di linguaggio per gesti. Puoi slogarti le mascelle e scardinarti le mani dai polsi, ma che non ti capiscono e non ti capiranno mai. Sovente fanno smorfie, roteando il bianco degli occhi e cacciando bava dalla bocca. Ma non è che con questo vogliono dire qualcosa e nemmeno spaventare. Lo fanno perché è la loro natura. Quello che gli serve se lo prendono. Non si può dire che ricorrano alla violenza. Basta che mettano la mano su una cosa e ciascuno si fa da parte e gliel'abbandona. Anche delle mie provviste hanno fatto man bassa. Io però non posso lamentarmi se guardo per esempio quello che succede al beccaio di rimpetto. Non fa in tempo a portare la merce in negozio che i nomadi gliel'hanno già raffata e inghiottano ogni cosa. Anche i loro cavalli sono carnivori. Spesso si vede un cavaliere sdraiarsi a fianco del cavallo e divorare con lui, ciascuno a un'estremità, lo stesso pezzo di carne. Il beccaio è impaurito e non osa interrompere i rifornimenti. Noi comprendiamo la situazione e facciamo collette in suo aiuto. Se i nomadi non potessero avere la carne, chissà che cosa gli salterebbe in testa di combinare e chissà d'altra parte che cosa gli salterà in testa anche se avranno carne ogni giorno. Qualche tempo fa il beccaio pensò che poteva almeno risparmiarsi la fatica del macellare e una mattina portò un bue vivo. Non l'avesse mai fatto. Dovetti starmene chiuso un'ora buona in fondo al mio laboratorio, steso carponi sul pavimento con tutti i miei vestiti coperte e cuscini ammucchiati addosso per non sentire i muggiti del bue assalito da ogni parte dai nomadi che gli strappavano coi denti brandelli di carne calda. Già da un pezzo era tornato il silenzio quando mi arrischiai ad uscire. Cacevano stanchi intorno ai resti del bue come bevitori intorno ad un'otre. Proprio quella volta mi sembrò di scorgere ad una finestra del palazzo l'imperatore in persona. Di solito gli non viene mai negli appartamenti esterni. Abita sempre in fondo al più interno dei giardini. Ma quel giorno, almeno così mi parve, stava a una finestra e a capochino guardava il movimento che riempiva la piazza davanti al suo castello. Che succederà? Ci domandiamo tutti. quanto a lungo dovremmo sopportare questo aggravio, questo tormento. È stato il palazzo imperiale ad attirare i nomadi. Ma adesso non sa come fare a ricacciarli. Il portone rimane chiuso e la guardia che prima montava e smontava con gran pompa se ne sta dietro le finestre protette da inferriate. A noi, artigiani e bottegai, è affidata la salvezza della patria. Ma noi non siamo pari a un simile compito, né mai abbiamo preteso di esserlo. È un malinteso e per causa sua finiremo in rovina.